Parliamo con Alessio Tacchinardi del pareggio. Alessio, ci si aspettava una vittoria, invece ancora una prestazione non al 100% del pergo? Sì, penso che abbiamo pagato un po' di stanchezza al primo tempo. Sicuramente era una squadra che, anche se ha pochi punti, è una buona squadra, è una squadra in salute, è una squadra che comunque ha fatto sempre le prestazioni. Quindi, al primo tempo sicuramente non siamo partiti forti e dopo, secondo me, invece la squadra ha fatto una buona partita, però certo, sicuramente se non fai gol è dura, quindi bisogna prima lavorare, bisogna lavorare sulla fase offensiva perché dobbiamo cercare di sbloccare le partite e al secondo tempo c'è stata l'occasione. Un pergo che non ha avuto neanche tantissime palle e gol, ha avuto qualche occasione potenziale palla e gol, ma palla e gol vera e propria non tantissime? Sul reparto avanzato, in questo momento qua, stiamo facendo fatica a fare gol, a concludere, purtroppo e anche i numeri ci penalizzano perché siamo forse il secondo attacco peggiore del campionato. Quindi, insomma, è una cosa che nessuno si aspettava con un reparto offensivo così importante, però non è adesso sicuramente la coppa di attaccanti e magari sicuramente anche la squadra non le mette in condizioni. Anche secondo me la squadra sta cercando di creare e fare come nel secondo tempo, però bisogna cercare di essere più efficaci perché non è la prima questa, ma diverse volte ho stata la sensazione proprio che non riesci a bucare le difese avversarie, però prima sicuramente salire di livello. Hai cambiato, hai dato tre cambi assieme, tra cui hai cambiato anche Valente che sembrava il più pericoloso, insomma, davanti. Sì, se secondo te era il più pericoloso, penso che abbia fatto una discreta partita, ma devono giocare anche gli altri e quindi insomma ho messo dentro gli altri. Valente ha fatto una buona partita come l'hanno fatta quelli che sono usciti, però bisogna accettare le scelte del terminatore, però Valente l'ha accettata senza problemi, però è sempre facile dire che quando esce uno, ma sembra quello più. A me sembra che aveva fatto una buona partita come l'hanno fatta gli altri, quindi ho deciso così, è andata così. Si deve una prossima al Ginatese, come si riprende, come si torna in campo, guardando anche un po' la classifica che adesso è un po' deficitaria. La classifica se non vinciamo oggi era una bella botta da poter dare un bel allungo, noi purtroppo i bonus li siamo già giocati nelle prime giornate di campionato, adesso questa era una partita da vincere, lo sapevano tutti e la volevano tutti vincere, purtroppo non siamo riusciti e andiamo al Ginatese a cercare di vincere, bisogna lavorare e cercare sicuramente di trovare una condizione, un assetto migliore per poter vincere le partite.